ciao a tutti questo è il posto più conveniente dove andare a fare la spesa e si dopo un bel po' di ricerche dopo un bel po' di informazioni che ho preso su youtube a quanto pare questo è il posto più economico a new york siamo a new york adesso entro con voi grazie per tutti i video che avete fatto su questo tema ho fatto l'escrizione ho messo like ai vostri video spero che anche le persone che guarderanno questo video faranno la stessa cosa mettete i like ma entriamo voglio entrare personalmente per vedere un pochettino cosa c'è all'interno entriamo dai ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.